Premiere non ha un mascherino sfumato però possiamo utilizzare un piccolo trucco per creare un mascherino sfumato in maniera rapida e veloce partiamo col creare un mascherino, ad esempio di questo a 4 o 8 punti quindi sulla nostra immagine, clicchiamo sulla funzione del mascherino decidiamo la zona che ci interessa quindi isoliamo un eventuale soggetto abilitiamo eventualmente l'animazione per avere il mascherino animato quindi andiamo a mettere posizioni differenti in modo che lui registri una posizione diversa dei punti nel tempo in questo modo noi abbiamo un mascherino animato il mascherino naturalmente ha un bordo netto come trasformare il tutto andiamo a creare un nuovo elemento, quindi un mascherino colorato lo realizziamo col colore bianco, bianco puro, quindi 100% lo andiamo a sovrapporre alla sequenza che abbiamo mascherato a questo punto noi abbiamo la sequenza che non è attiva facciamo un copia e incolla del mascherino quindi selezioniamo un mascherino come effetto copia andiamo sul nostro oggetto, quindi il blocco bianco incolliamo l'effetto quindi abbiamo esattamente un mascherino corrispondente su questo livello andiamo ad aggiungere un effetto di sfocatura quindi sfuochiamo il nostro mascherino in modo da avere i bordi morbidi e poi nascondiamo questa traccia in modo che vediamo solo la traccia originale nella clip a questo punto disabilitiamo il nostro mascherino originale e andiamo ad aggiungere la funzione mascherino traccia cosa vuol dire? che verrà usata una traccia quindi questa qua sopra segnata come video 2 come mascherino come potete vedere adesso se andiamo a vedere il mascherino è sfumato perché l'immagine originale questa qua bianca è sfumata semplice rapido veloce quindi così abbiamo una traccia separata che ci crea un mascherino sfumato se su questa traccia vogliamo andare a creare effetti particolari ci basterà manipolare o il mascherino originale che a questo punto come vedete rimane sfumato perché successivamente ha una sfocatura gaussiana come piuttosto potremmo aggiungere un secondo mascherino ulteriore mascherino a 8 punti e quindi avere un mascherino che è contemporaneamente netto e sfumato perché abbiamo un mascherino netto che è questo e mascherino sfumato perché subito dopo c'è la sfocatura gaussiana grazie a tutti grazie a tutti